Oggi episodio per il sociale, cerchiamo di dare una delucidazione sulla retrogradazione dei pianeti. Purtroppo, come dico sempre, l'astrologia attira molte persone ingenue che si fanno un po' tirare, da interpretazioni un po' farlocche, dove devono sempre vedere il negativo. E voglio parlare dei pianeti retrogradi sul tema natale di nascita, cioè il pianeta retrogrado è un pianeta che simbolicamente sta andando indietro. In realtà i pianeti non vanno indietro, proseguono per la loro orbita, ma siccome la Terra in alcuni punti va più veloce, ci sembra, essendo sulla Terra noi, che il pianeta vada indietro, il pianeta esterno vada indietro. Questo perché? Perché l'orbita dei pianeti è ellittica, non è rotonda e circolare, è un po' come la pista dei centometristi. E nel momento in cui colui che sta nel pianeta, sul cerchio interno, quindi più vicino al Sole, sembra che andando più veloce, appunto, gli altri pianeti o alcuni di questi vadano indietro. È un esempio estremamente banalizzato, perché è un po' più complesso da spiegare a livello astronomico, ma non è questa la sede adatta. Allora, pianeta retrogrado, le simbologie che sono state date a questi pianeti sono devastanti. Morte, pestilenza e carestia. In realtà non è assolutamente così. Allora, faccio un esempio che li vale tutti, ma potrei veramente farne tanti. Il violinista, per esempio, Uto Ugi, un grande virtuoso, è nato il 21 gennaio del 44, a luna e 32 del mattino, a Busto Arsizio. Ha tutti i pianeti lenti in retrogradazione, Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone. E anche Chirone sono retrogradi, così come, volendo essere poi precisi, anche degli asteroidi, Cerere e Vesta, quindi avrebbe dovuto essere un ritardato. In realtà è un prodigioso esempio di precocità. Lui inizia a esibirsi già a otto anni, a dodici anni è già considerato violinista finito e si esibisce comunque a livello internazionale. Quindi ci sono tantissimi esempi che dimostrano che la retrogradazione di un pianeta nel tema natale non è assolutamente nefasta. In più, facciamo un ragionamento. Cerchiamo di capire la durata della retrogradazione, perché ovviamente più il pianeta è lento, quindi più è distante dal Sole, più il suo moto retrogrado durerà. Per cui, non lo so, pianeti molto vicini al Sole, come Mercurio e Venere, hanno delle retrogradazioni di alcune settimane. Durano invece 4-5 mesi e mezzo anche i pianeti da Giove a Plutone, e quindi la retrogradazione di questi pianeti è molto comune. Questo significa che un terzo delle persone nel mondo ha Saturno retrogrado nel tema natale e un altrettanto terzo ha Giove retrogrado. Cioè, rendiamoci conto, una persona su tre. Questa storiella qua vale ancora meno della stupida interpretazione del segno zodiacale, dove una persona su 12 è della riete, una persona su 12 è del toro, una persona su 12 è dei gemelli. Qui stiamo parlando di una persona su tre. Quindi, se questi pianeti fossero nefasti, sarebbero stragi di massa. Quindi, quando si approccia l'astrologia, se non si vuole avere a che fare con un astrologo professionista, anche perché non è facile trovarli, anzi, posso mettermi dentro, non è facile trovarci, è importante cercare sempre di capire che non esistono aspetti negativi o aspetti positivi, esistono lezioni da apprendere attraverso un'esperienza, attraverso una guida, che ovviamente non si può improvvisare. Quindi, l'esempio rimane sempre quello, se devo farmi operare, mi faccio operare da un medico, non mi faccio operare da uno che è appassionato di medicina. Perché è importante capirla, questa differenza. Grazie per l'ascolto.